giordano bruno diceva con contezza che i nostri atti di immaginazione e di pensiero sono atti di luce perché noi siamo una sintesi di tutte le leggi della natura compresa la luce ma soprattutto siamo una sintesi di tutte le leggi della natura presenti in questa realtà e nelle altre realtà cosa hanno dentro le virtù per essere definite dimensioni hanno dei parametri spazio temporali diversi da quelli della tridimensionalità il bianco che è un colore che si trova in natura sostanzialmente se vissuto in termini emozionali lo spazio e il tempo sono cose diverse il bianco come virtù e la fede questo vuol dire che tutto il mondo iniziatico da sempre da sempre sa attraverso tra virgolette la manipolazione delle proprie strutture emotive vivere lo spazio e il tempo dentro di sé in dinamiche completamente diverse da come le viviamo noi cosa vuol dire che questi personaggi avevano un'idea del tempo e dello spazio che noi non abbiamo questo cos'altro vuol dire che se tu non hai quest'idea non hai neanche il pensiero di quest'idea e siccome il pensiero è materia tu quest'idea non la puoi portare fuori da questa realtà interna e avevano come conseguenza una dinamica mentale molto più aperta e una creatività intuitiva molto più evoluta che gli permetteva di convivere con questa realtà inserendo in questa realtà la loro visione della realtà perché noi siamo esseri che si devono definire ottave e l'ottava che è un'entità molto più grande della nostra se vogliamo chiamarla anche dio ha come fine ultimo la creazione di mondi per quello che lui parlava di mondi nei mondi nei mondi nei mondi e via dicendo questa è l'ottava a 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